Buongiorno a tutti cavalloni! Allora, oggi sono qui per iniziare questo gameplay di Hellblade Senua's Sacrifice che è uscito, penso, settimana scorsa o comunque da pochi giorni e ne ho sentito parlare molto bene su diversi articoli di Kotaku e di altre testate videoludiche. In questa settimana ho sentito anche che ha un sistema di permadeath non... non meglio specificato, o meglio se morite troppe volte vi sovrascrive il salvataggio e morite non ho ben capito come funziona ma sembra molto interessante, cioè o meglio non l'ho letto troppo perché non volevo spoilerarmi e ho subito deciso di comprarlo dopo aver visto qualche gameplay random così preso su Twitch e YouTube. Molto bene, quindi iniziamo subito Senua's Sacrifice, Hellblade Cercherò di non parlare o di parlare il meno possibile sulle cutscene e sulle cose dovrebbe essere sottotitolato in italiano ed essere in inglese. Questo gioco è di Ninja Theory ovvero gli sviluppatori di Heavenly Sword, il primo gioco, uno dei primi giochi che è uscito sulla PlayStation 3 che avevo giocato, poi hanno sviluppato Enslaved che non avevo giocato e Devil May Cry, il nuovo, sempre per la 3 e la 4 anche mi sembra che sia uscito iniziamo subito Ok Immagino di essere io Senua Ok, sento le voci Oh, come sento le voci Non ho mai parlato degli altri Mental health advisor Ok Sì turn back go back it's not safe turn back it's not safe it's there they're here can you see they can save it look around and you will see the drowned the sick the slain they're in silence the fields and rivers of hell but the dead don't always lie still here this is not a place of rest you can't do this go back they're going to do that to you can you see them? can you see them? they're going to do that to you they're watching stop can you feel they're watching they're watching her they're watching her watching her you're so close you're so close you're so close can you feel it? what is she thinking? i can tell you she's afraid wouldn't you be? you think she would get used to it by now after so many years but the darkness it just builds onto itself growing stronger towering over her not so you can't ignore it turn away fantastic it's always there just out of sight where you're most vulnerable it's like it knows that just enough light it's all you need to see its suffocating power they can feel you you might think she's brave to go on this journey on her own but it isn't bravery that drives her ok bravery only means something to those afraid of death then it was fear runs far far deeper she comes madonna che ansia che mi mettete raga ok penso di aver finito la sequenza di introduzione di essere finalmente io a comandare la grafica è molto carina lo stile grafico è proprio carino i particellari la luce molto bella per essere un gioco da 30 euro sul playstation store è fantastico per ora sono è è è Raga ci sta guardando Beh, potrei anche lasciarla lì, eh, Senua Ok Ok Ok, posso muoverla io Dicevo, è molto molto figa l'ambientazione e tutto quanto Ok, questo cos'è? Ok 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 È un cazzo di... What? Cosa sta succedendo? Oh, non promette nulla di buono, raga Non promette niente di buono, questo Madonna, ho un'ansia addosso che non avete idea Ok Posso prendere questa torcia? No Non posso Bene Bene così Chi ha bisogno di una torcia nell'oscurità? Solo quelli che hanno paura Nessuno ha paura, non fai paura a nessuno, gioco Ah, sicuramente non a me Lol Non questa volta Va bene Ok Figata Cos'è? Un villaggio morto? Uh, cos'è? Un drago? È Lime La terra di misto e foglio L'ultimo fuori era certo Cosa ha detto? La riviera di scuole Allora ci sono le luci di hell Il posto che si chiamano Mi aspetto un mostrone gigante, demoniaco Che mi attacca da un momento all'altro, ragazzi È dietro di me, lo so I hear you There's no doubt about it The source of the darkness is in Helheim Ok Ok Dillian, ok Dobbiamo trovare Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare l'anima di Dillian O non lo so Oh ma mollatemi Non torno indietro, ragazzi No, non è morto Sarà un mostrone gigante bastardo, sicuro Il ponte per Helheim Il ponte per Helheim Solo i morti C'era un passaggio segreto Dovrà andare di là, sicuro Cioè non ci sono molti altri passaggi Non che io li veda Forse lì No, non penso che si arrampicherà Ok, qui ci sono delle scale Qui c'è un'altra pietra di quelle pietre strane Vediamo subito cosa dice Ups, l'ho fatto ripartire Ok, Midgar E' fichissima E' la mitologia nordica Solo che non so niente Della mitologia nordica Ed è un po' un casino Perché mi ha dato tipo dieci nomi di Reami diversi E Ricordo solo che Midgar E quella degli uomini E Helen che è quella dei morti Adesso dove sto andando Vabbè ma ragazzi Mollatemi un secondo Ok Ok Senua è completamente folle A quanto pare Sente voci Sempre Comunque Che mettono in dubbio Ogni Ogni sua mossa E quindi mettono in dubbio me Questo è il passaggio Nascosto No Non sembra affatto pericolosa Tocchiamola Oh cazzo E' tutto buio Oh cazzo Ok Ok Di me drut Ok Ok devo trovare un'altra runa così Per aprire il cancello Ma qui vicino o? Sì no qui vicino immagino Ok è così va bene Dove la trovo? Oh oh eccole eccole Sono mille Forse devo semplicemente tornare indietro E se non è completamente folle Vede cose No mi sa che è la via sbagliata questa Era di qua Dov'è? È qua È un'ombra Che stronzi Se guardo la porta si aprirà Entriamo Entriamo nella porta della morte E speriamo che non ci sia roba Mostri Oddio Ok molto molto calmi Su questo Su questa trave della morte Madonna Cioè ho voci nella testa Che mi parlano in continuazione Molto rassicurante Beh almeno non sono sola Mi identifico con la donna ragazzi Abbiate pietà Oh cazzo Non mi mettere ansia voce Mamma mia Non mi mettere ansia voce La giantessa, Hela, la figa di Loki. Ah, Loki è stato giocato, stupendo. And with her, you must bargain. Ok.